Radio Cusano TV Italia Benvenuti e bentornati da Riccardo Borgia con questo nostro spazio di approfondimento sportivo legato anche al momento che stiamo vivendo ovvero l'emergenza coronavirus che ci tiene a casa appunto aspettando l'evolversi della situazione e una delle categorie più interessate sono proprio i liberi professionisti da questa situazione visto che il loro lavoro è comunque legato alla giornata, a contratti anche a chiamata e chiaramente il governo sta cercando di risolvere questa situazione anche con degli aiuti alle partite IVA e una delle categorie più interessate anche nel mondo dello sport è la categoria del fotografo sportivo che segue comunque gli eventi in giro per l'Italia, in giro per il mondo legato alle manifestazioni sportive che sono state anche annullate per l'emergenza e attraverso chiaramente le loro immagini ci raccontano le partite, i momenti sportivi e gli atleti nel dettaglio attraverso appunto le loro immagini e abbiamo proprio un fotografo in collegamento Skype con noi quest'oggi il fotografo ufficiale dell'AS Roma, Luciano Rossi, buonasera Luciano Buonasera a tutti Ecco Luciano partiamo intanto da un'introduzione, dalla tua storia chiaramente in pillole la tua lunga esperienza, come sei nato, come è nata questa passione per il calcio, questa tua professione? Allora diciamo che il mestiere del fotografo nasce dopo scuola, dopo le medie che fai, sai quando sei ragazzino, quando sei indeciso, il classico, il scientifico io avendo un fratello più grande mi ho detto che vuoi fare, ti piacerebbe fare il fotografo? Cioè scuola di fotografia, ci ho pensato un attimino ero ragazzino, c'erano 14-15 anni, insomma non volete sono andato a fare scuola di fotografia per tre anni mi sono subito appassionato e niente, la scuola poi mi ha trovato il lavoro sono stato in un paio di posti, mi hanno mandato prima da una parte dopo un annetto da un'altra parte sono stato 27 anni in un service pubblicitario e faccio diciamo foto pubblicitarie però il mio sogno era fare il fotografo sportivo però sai, allora ti informavi come si poteva fare per fare le foto allo stadio eccetera ovviamente ti buttavano giù quando chiedevi a gente che già stava dentro ah no, lascia perdere, è un problema per entrare ci vuole la tessera, ci vuole qui, ci vuole là poi piano piano ti dico la verità, non lo so neanche io come ci sono riuscito ho conosciuto persone che stavano nel settore ho collaborato con queste persone sono riuscito a prendere la tessera dell'ordine e poi piano piano sono entrato nell'ambiente entrare nell'ambiente e poi conosci e poi mi sono ritrovato nella Roma assolutamente, entri più nell'ambiente nell'ambiente sportivo a tutto tondo ecco parlando proprio del campo dei 90 minuti della partita quanto è importante cogliere l'attimo della fotografia e comunque magari cogliere proprio quell'azione che poi è importante che tutti i tifosi guardano allora, premesso che diciamo noi fotografi che stiamo a bordo campo dobbiamo avere due ottiche un'ottica lunga e un'ottica corta per fare le cose da vicino, dentro l'area non ti devi mai distrarre ma non devi perdere un attimo perché il gol può venire all'improvviso quindi non devi perdere un attimo di concentrazione io poi fortunatamente appunto lavorando per la Roma ancora più degli altri per un discorso pure d'archivio eccetera noi, cioè io, cioè due collaboratori che ci posizioniamo in posti diversi quindi non perdiamo nulla perché poi il fine del calcio il gol e i festeggiamenti diciamo, a parte il gesto tecnico e quindi se il calciatore va a esultare da una parte c'è mio figlio se viene dalla mia parte ci sono io se va di là c'è un altro collaboratore quindi non ci perdiamo nulla non ci dobbiamo perdere nulla assolutamente assolutamente per cercare poi quello scatto tra virgolette perfetto che poi vediamo sulle testate o comunque sul web che magari ci fa vivere quella determinata azione come se stessimo lì presenti in campo assolutamente ecco parlando proprio della tua carriera c'è uno scatto o più scatti alla quale sei particolarmente legato o comunque un momento della tua carriera a cui sei particolarmente legato? ce ne sono tantissimi ce ne sono molti però diciamo io ho avuto la fortuna mi tengo fortunato di aver vissuto Francesco Totti prima che è fotografo da tifoso della Roma capisci che è un sogno per tutti e io me lo sono l'ho vissuto me lo sono goduto proprio da vicino quindi i momenti più belli diciamo riguardano lui per quanto riguarda i miei scatti anche per il po' lui come ben sapete è sempre stato un tipo imprevedibile prendiamo esempio che ne so delle magliette che faceva quando faceva che esponeva dopo il gol oppure il selfie e queste cose quindi ce ne sono tanti di momenti tanti tanti però quello che lo scatto che tengo più più a cuore è l'ultimo calcio che ha dato al pallone e se non sbaglio ecco non so se lo vedete dietro di me si vede un po' si vede un po' male essendo essendo il computer però sì ce lo ricordiamo insomma tutti il 27 maggio anche quello per esempio è stato una cosa che ha preso tutti di sorpresa perché lui ha fatto il giro del campo e hanno dato un pallone l'ha firmato e si è girato verso il campo improvvisamente si è rigirato verso la curva e ha lanciato il pallone quello è stato diciamo l'ultimo calcio al pallone della sua carriera quindi diciamo è stato anche uno dei momenti insomma più a livello emozionale più alti e parlando prima parlavi insomma dei social dei selfie ecco secondo la tua esperienza la tua chiaramente carriera il mondo dei social al momento sta un po' cambiando la fotografia vediamo un po' tutti che tra virgolette si improvvisano fotografi hanno sempre lo smartphone in mano come cambia diciamo l'approccio del fotografo professionista da quello amatoriale che va allo stadio magari da tifoso e fa lo scatto questo è un problema molto serio che anche tra noi fotografi ne parliamo spesso è una cosa che purtroppo esiste ma non ci dovrebbe essere perché adesso con i telefonini poi all'avanguardia e fanno foto niente male tolgono il lavoro ai fotografi già c'è tanta crisi già con l'avvento del digitale diciamo la fotografia c'ha avuto un declino poi ci si mettono anche i dilettanti i tifosi a fare foto e quindi il fotografo io sono un privilegiato però mi dispiace per tanti tanti i miei colleghi che soffrono molto questo problema perché il lavoro è sempre meno per loro già diciamo dovrebbe sostanzialmente rimanere tra virgolette delle fotografie un lavoro d'elite sostanzialmente quindi creare del materiale fotografico professionale e poi è chiaro che il tifoso poi quando va allo stadio fa il suo scatto le sue foto e i suoi video certo ma non soltanto il tifoso allo stadio poi capitano tante foto che girano sui quotidiani insomma un po' dappertutto e fatte da dal semplice cittadino diciamo così anche perché comunque l'occhio è sicuramente diverso l'occhio di un fotografo professionista coglie dei dettagli delle cose che chiaramente l'amatoriale non può cogliere e ecco sempre parlando della tua esperienza quali magari i tuoi scatti o foto parlavamo prima dell'ultimo calcio al pallone di Francesco Totti ci sono degli scatti particolari che descrivono la Roma nella tua carriera anche fuori dal campo chiaramente beh per esempio il fatto che diciamo da quando ci sono io che sono già parecchi anni una cosa che da tifoso a me fa piacere vedere assistere spesso a a riunioni dei calciatori tipo cene feste che stanno tutti insieme anche con le famiglie quella è una cosa molto bella e spesso mi coinvolgono a queste queste feste diciamo anche perché poi diciamo si vede poi un lato più normale tra virgolette dei calciatori siamo abituati a vederli sul campo un po' staccati dai tifosi e poi chiaramente lungo questi eventi si vede la normalità insomma di quei ragazzi ecco io ti chiedo proprio a questo proposito ci sono degli aneddoti magari particolari secondo la tua esperienza proprio di queste occasioni aneddoti ma sai cioè sono ragazzi talmente cioè noi li vediamo come extraterrestri no e totti ne so geco eccetera poi quando ci sta insieme ci parli sono ragazzi normalissimi tranquillissimi non ti fanno pesare nulla quindi come aneddoti che ti devo dire non lo so non mi viene in mente nulla poi io vivendoli tutti i giorni quindi non so cosa dirti a riguardo certo diciamo per te è più la normalità sostanzialmente magari i tifosi li guardano come dicevi tu come extraterrestri invece comunque tu vivendoli tutti i giorni nell'ambito lavorativo li vedi come ragazzi normali del resto qualche piccolo qualche volta è capitato che in compagnia di qualche mio amico ha conosciuto che ne so totti o osvaldo e mi hanno detto oh ma mazza è proprio proprio simpatico cioè perché loro si aspettavano chissà che sono ragazzi come noi tranquilli che scherzano giovani ridono certo uno che li vede in tv li vede allo stadio si immagina chissà che invece ti ripeto sono ragazzi semplicissimi anzi alcuni sono meravigliosi assolutamente ecco parlando sempre di quello che dicevi prima del cambiamento della fotografia secondo il digitale ora col digitale si fa tanto come photoshop insomma cambiamenti anche radicali delle immagini si è perso un po' la magia dello scatto da rullino a digitale no perso no anzi anzi diciamo che per certi versi è stato un vantaggio per il fotografo che prima a parte faccio una premessa io sono entrato nell'ambiente proprio alla fine del rullino inizio del digitale ok quindi parliamo di 99 2000 diciamo nel periodo che la Roma stava vincendo lo scudetto diciamo da questo punto di vista il fotografo è stato avvantaggiato perché prima facevi 5 6 7 rullini facevi 150 foto 200 foto adesso hai la possibilità di fare più scatti a parte che le macchine nell'attrezzatura fotografica adesso si è evoluta quindi le macchine sono molto veloci quindi una sequenza che un fotografo oggi fa è un film è un video ovviamente è una macchina che te fa 12 13 14 scatti al secondo immagina quindi non ti perdi nulla però certo poi c'è l'inquadratura c'è anche insomma la bravura del fotografo ovvio però no ti ripeto non è cambiato sotto quel punto di vista secondo me è stato un vantaggio certo diciamo è quello poi il cambiamento come dicevi tu prima in base alla bravura del fotografo è il discorso che facevamo prima della fotografia amatoriale e quella professionale esatto esatto ecco io ti chiedo Luciano per magari chi si volesse avvicinare a questa questa professione dei consigli magari tu da professionista da esperto magari per intraprendere la carriera e cogliere ecco tutti quei momenti che poi hai colto tu nel nel fotografare la Roma o comunque nella tua carriera beh il consiglio che posso dare a un giovane è ovviamente devi avere tanta passione ti devi proprio piacere e poi non non mollare nel senso se vuoi specializzarti in un settore devi devi spingere non devi mai mollare come avevo fatto io in passato a me quando mi dicevano no lascia perdere insomma tutte queste cose ti butti giù di morale no anche se era la mia passione perché io amante del calcio da bambino giocavo a calcio fino a 30 35 anni ho giocato a calcio quindi per me era una passione poi la Roma per me è stato il massimo e niente quindi ho insistito nel momento in cui mi è passato il treno l'ho preso a volo non devi mai mollare non devi mollare ovviamente ci deve essere la passione quella è la cosa più importante uno non è che dice vabbè mi piaceva andare a fare foto a Totti no lì non è Totti lì se ti piace devi andare a fare anche che ne so il Casalotti certo assolutamente comunque unire sicuramente la passione al lavoro è sempre il massimo poi tu comunque come dicevi da tifoso sicuramente è stato poi il massimo unire l'essere tifoso della Roma a poi il tuo lavoro il tuo lavoro odierno ecco un'altra domanda che ti faccio sempre proiettato però al futuro come come si dice la foto che ancora non hai fatto che vorresti fare ecco per il futuro per il prossimo futuro sai che non ci ho mai pensato non certo mi piacerebbe da tifoso della Roma fare la foto alla squadra con la Coppa Scudetto alla mia sicuramente assolutamente assolutamente sicuramente hai unito benissimo l'essere tifoso a poi il tuo lavoro ecco prima di chiudere Luciano ti chiedo un'ultima cosa stiamo vivendo in questi in questi momenti l'emergenza appunto coronavirus prima mi dicevi che chiaramente da libero professionista siete un po' un po' bloccati il governo sta comunque cercando di aiutare le partite IVA o comunque i liberi professionisti che lavorano di questo quando finirà la quarantena diciamo qual è l'aiuto che potrebbero dare a categorie come le vostre quindi come i fotografi ma come i liberi professionisti del resto innanzitutto una volta che finisce la quarantena speriamo che se ricominci a giocare a giocare presto tutti tutti gli sport ovviamente così i miei colleghi perché io mi metto nei loro panni i miei colleghi possano ricominciare a lavorare e niente è solo questo però come dicevo prima a parte il discorso dei i i dilettanti diciamo con i telefonini eccetera purtroppo questo questo lavoro questo mestiere sta andando pian piano a sparire capito perché purtroppo siamo tanti cioè i fotografi sono tanti le testate i siti sono poche cioè come come si fa quindi puntare sostanzialmente come dicevamo prima più alla qualità piuttosto che magari allo scatto al momento ecco è un problema io guarda sono dispiaciuto per tanti colleghi che stanno in difficoltà io sono un privilegiato da questo punto di vista però è un problema è un grosso speriamo speriamo che si possa iniziare presto e che le cose vadano meglio di prima speriamo me lo auguro assolutamente assolutamente io ti ringrazio Luciano per questo tuo intervento per averci spiegato il mondo della fotografia sportiva ma anche una tua testimonianza da tifoso sostanzialmente che ha unito la sua la sua passione poi al ruolo di fotografo grazie a voi grazie e ringrazio Luciano Rossi per averci esposto il mondo della fotografia anche dal punto di vista del tifoso in questo caso della Roma legato appunto al suo lavoro ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito lungo questo approfondimento legato appunto alla fotografia sportiva continuate a seguirci sul canale 264 del digitale terrestre l'informazione di Radio Cusano TV Italia continua grazie a tutti Grazie a tutti